Il testo poetico è molto diverso dagli altri tipi di testo. Una delle caratteristiche che salta all'occhio immediatamente è la sua forma. È veramente diversa da un testo, per esempio, narrativo, in cui viene occupato tutto lo spazio di un foglio. Mentre nel testo poetico possiamo trovare diversi tipi di poesia, però fondamentalmente le caratteristiche grafiche saranno quelle di un testo ridotto rispetto allo spazio a disposizione. E questo è il primo evidente elemento che salta agli occhi e che è distintivo della poesia stessa. Ci sono altri elementi però importanti e, addentrandoci nella lettura di una poesia, questi elementi diventano molto chiari. La poesia, a differenza di un testo narrativo, per esempio, ha un primo approccio complesso. In alcuni casi la poesia è di immediata comprensione o di semplice comprensione. In altri casi è più difficile riuscire a comprendere cosa, in quel momento, il poeta intendeva comunicare attraverso quei versi. Anche nella poesia che ha un significato semplice e immediato, come potrebbe essere, per esempio, una poesia di Ungaretti, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Immediatamente potrebbe essere semplice comprendere quello che le parole in italiano significano, ma insieme queste parole che significato hanno? Cioè, cosa vuol dire si sta come d'autunno sugli alberi le foglie? Chi sta? Che condizione sta raccontando? Quello che magari, a livello linguistico della nostra lingua, può essere comprensibile, di fatto racchiude un suo significato recondito, nascosto, che non è facilmente comprensibile. Questo dipende appunto da come la poesia viene costruita e dalla libertà che ha il poeta stesso di utilizzare le parole in un modo speciale, se vuole, perché è particolare, è difficile il contenuto della sua comunicazione. O anche se fosse semplice, lo strumento che ha scelto, cioè quello poetico, non per forza è uno strumento immediatamente semplice da usare. La poesia si forma attraverso parole che vengono messe una di seguito all'altra, l'altra secondo un ordine che sarà il poeta stesso a dare. E quindi sappiamo, perché già ne abbiamo avuto esperienza, che in certi casi, per esempio, possiamo trovare poesie in cui mancano i segni di punteggiatura. In ungaretti questo è molto frequente. Poesie che hanno la mancanza di verbi o la mancanza di alcuni elementi della frase, come può essere per esempio il soggetto. E di questo ne abbiamo avuto pura esperienza leggendole immediatamente, salta all'occhio, la mancanza di alcuni elementi, però leggendo la poesia stessa riusciamo comunque a coglierne il significato. Inoltre, all'interno della poesia, molte parole, o meglio, all'interno della nostra lingua italiana, molte parole possono avere più significati a seconda del contesto in cui vengono usate. Sono le cosiddette parole polisemiche. Polius in greco significa molto, semion significa significato, segno. Quindi molti significati. Per esempio, mi ha donato un fiore, è di immediato significato, è un'azione che riusciamo anche a vedere. Mi ha donato un fiore. Ma la parola fiore può avere dei significati anche metaforici. Quando noi diciamo era nel fiore degli anni, intendiamo era nel momento di massima splendore, espressione dell'età che egli stesso aveva. Oppure è un fiordimascalzone, cioè è veramente un mascalzone, quella persona quindi è un fiordimascalzone, ha un significato ancora diverso. E già abbiamo visto attraverso questi tre esempi come la parola fiore può avere tre significati diversi a seconda del contesto in cui viene utilizzata. Quando le parole hanno più significati, possiamo dire che hanno due valori. Il primo si chiama valore denotativo ed è esattamente nel caso di mi ha donato un fiore, cioè quando la parola viene utilizzata nel suo significato principale. Mentre invece ha un valore connotativo quando viene utilizzata, come nel caso di era nel fiore degli anni, oppure è un fiordimascalzone, quando dicevo viene utilizzata nei suoi significati secondari. Spessissimo il poeta opera questo tipo di scelta, quella cioè di servirsi di parole nel loro valore denotativo sicuramente, ma anche nel loro valore connotativo. Quando questo avviene si dice che vengono operati degli slittamenti semantici, cioè la parola stessa viene utilizzata secondo un valore connotativo e quindi in questo caso il poeta ha la facoltà di inserirla in certi contesti in cui viene costruita un'immagine che può essere insolita, cioè non usuale, non immediatamente usata per quella parola stessa. Però è proprio quello che il poeta vuole fare, usare le parole per poter conferire al suo messaggio, alla sua comunicazione, un significato particolare. Quindi lo slittamento semantico è molto presente come strumento nella cassetta degli attrezzi del poeta. Inoltre il poeta può utilizzare all'interno della poesia più parole che riconducono tutte ad uno stesso significato. Significa che lui sta creando quello che in termini poetici si chiama un campo semantico, cioè sono una serie di vocaboli che pur avendo dei significati diversi, se usati insieme in un certo contesto, assumono un loro significativo, un loro significato. Per esempio, se il poeta ha intenzione di comunicare attraverso la sua poesia un'idea di dolore, un'idea di sofferenza, utilizzerà, mettendole vicine, una serie di parole che pur avendo significati diversi, richiamano comunque l'idea della sofferenza. Oppure, in altri esempi, possono richiamare l'idea della, per esempio, della tristezza, oppure l'idea del piacere. E quindi troveremo in quella poesia un susseguirsi di parole che in quello specifico contesto di quella specifica poesia rimandano come messaggio, come significato generale al campo semantico del piacere. Ancora, per poter comprendere appieno il significato di una poesia, spesso dobbiamo trovare al suo interno quelle che vengono definite le parole chiave. Chiave nel senso proprio metaforico di una parola utilizzata come chiave per aprire la porta del significato. Quindi, sono parole importantissime, perché a differenza di altre parole che sono presenti nella stessa poesia, soltanto quelle hanno la facoltà di introdurci nel testo stesso. Sono parole, cioè, di cui non possiamo fare a meno se vogliamo entrare nel significato che il poeta, attraverso quella poesia, vorrebbe condividere con il suo lettore. Quindi, sono quelle parole che vanno trovate in maniera netta per poter riuscire a comprendere la poesia. E in alcuni casi è il poeta stesso che le mette in evidenza. Abbiamo conosciuto, per esempio, lo strumento delle jambemans, dell'inarcatura, cioè del mettere a capo parole che, dal punto di vista del significato, dovrebbero stare sullo stesso verso. Quando, per esempio, un poeta opera un'azione di questo genere, è anche perché vuole indicare, in questa maniera, in quel testo che ha portato a capo, una parola chiave. Se non altro perché il lettore è costretto a fermare la propria attenzione su quella parola che, in qualche modo, dovrebbe stare in un posto diverso da quello in cui il poeta l'ha collocata. Altre volte, le parole chiave sono quelle che, da un punto di vista grammaticale, soggetto, predicato, complemento, dovrebbero stare in una certa postazione e che, come per esempio, potrebbe essere il soggetto ad inizio frase, mentre invece, magari, il poeta lo mette alla fine della frase. Questo sempre per poter convogliare, attraverso quest'artificio, tutta l'attenzione di un lettore su quella parola che si troverà poi alla fine della frase. Quindi, trovare le parole chiave non è poi così complicato. Va letta la poesia e attentamente troveremo anche le parole chiave. Tutto questo va fatto per poter comprendere il senso della poesia stessa, il tema della poesia, cioè l'oggetto di cui il poeta si sta occupando per descrivere una sensazione, una situazione, un sentimento, un contesto, un tema che, appunto, egli stesso ha voluto esprimere dedicando questi versi al tema che sta trattando. E così sono tante le poesie di Ungaretti, in maniera particolare, ma anche di altri autori che hanno in questo uso della parola individuato anche le caratteristiche specifiche del proprio modo di fare poesia.